La necessità di avere delle calciature estremamente rigide per chi vuole tirare a distanze molto elevate ci ha portato a studiare un nuovo materiale che fino ad ora non era presente sul mercato in questo caso vedete una calciatura della famiglia rover ma ben presto arriverà anche la calciatura della carabina tactical e altre calciature fatte in questo materiale è estremamente rigido estremamente robusto insensibile alle variazioni di umidità e di temperatura noi l'abbiamo chiamato icm che vuol dire ingette carbon matrix matrice di carbonio iniettata quindi c'è tutta una matrice di fibra di carbonio che viene avvolta da un legante in questo modo abbiamo ottenuto veramente un materiale dalle prestazioni eccezionali è assolutamente insensibile a qualsiasi tipo di maltrattamento anche la superficie stessa è molto dura molto resistente indistruttibile bisogna però fare una precisazione questo materiale è diverso dal tipico calcio in carbonio classico questo materiale è un materiale iniettato quindi è iniettato in uno stampo è più robusto è leggermente più pesante ma ha delle prestazioni meccaniche veramente superiore